Buonasera a tutti, ringrazio l'Associazione Il Filo della Memoria per avermi coinvolta nel proporvi la lettura di un libro. Io ho scelto Nati due volte di Giuseppe Pontigia che è come una finestra aperta su una famiglia che vive la tragedia della malattia del figlio ed è stato scritto per farci riflettere sul significato di vita normale. Protagonista del racconto è un padre che è un giovane insegnante che cerca di costruire un rapporto con il figlio Paolo che è affetto da tetra paresi spastica. Il professor Frigerio che appunto è il papà di Paolo rievoca momenti e tappe della compressa quotidianità del figlio e della famiglia perché ovviamente quando in una famiglia arriva un bambino con disabilità tutti ne sono coinvolti e ognuno reagisce in maniera diversa. Ad esempio il fratello maggiore Alfredo non ha nessuna empatia per Paolo e anzi la malattia di Paolo gli crea un senso di repulsione e come dice l'autore nel libro vi è una fratellanza mancata. Poi c'è la mamma Franca. La mamma Franca è convinta che Paolo diventerà come tutti gli altri ragazzi. Basta avere tempo e pazienza. La vita di Paolo è vissuta attraverso i pensieri e le azioni del padre che lo sostiene nel suo percorso di crescita. Percorso che è complicato non solo per la patologia di Paolo ma anche come viene descritto nel libro per l'incompetente ginecologo che lo fa nascere, per i centri di riabilitazione che propongono riunioni inutili, metodi riabilitativi inefficaci, per la direttrice della scuola media che vorrebbe separare Paolo dai compagni che ha avuto da sempre nella scuola elementare, oppure gli scherzi telefonici di alcune ragazze perché Paolo viene sottoposto anche questo. Queste ragazze gli fanno credere di avere un interesse per lui quindi il percorso è veramente molto complicato. Come ci suggerisce il titolo? Nati due volte. Questi bambini nascono due volte. La prima è quella biologica e come va a dire un giorno un medico e due genitori questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato, ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Questa almeno è la mia esperienza. Non posso dirvi altro. E infatti la parola chiave di questo libro è proprio la parola rinascita. Questo romanzo è importante non solo per la tematica trattata che è appunto la disabilità, ma anche dal punto di vista di un genitore che da un lato non nasconde le sue difficoltà, ma dall'altro lato invece accoglie tutti i momenti di gioia che la relazione col suo figlio sa regalargli. E a questo proposito per concludere vorrei leggervi l'ultima parte del libro, l'ultima pagina che ha come titolo a distanza, proprio per farvi capire chi è Paolo per il suo papà. Mi capita di vederlo a distanza, nella via lunga e stretta dove abito. Cammina lungo i muri delle case per avere un appoggio, se incespica. L'andatura è sgraziata e anziché seguire i comandi del corpo sembra sfruttarne il peso, precipitandolo talora in avanti con accelerazioni improvvise. Alcuni lo riconoscono e lo salutano. Lui si ferma con la schiena contro l'intonaco, sempre pronta a parlare con tutti. intuisco che certi lo trattano come un bambino. Sono gli stessi che trattano i bambini come idioti e stabiliscono con loro finalmente un rapporto alla pari. Lui è in grado di dire cose che loro probabilmente non sanno neanche pensare, ma si limita a guardarli, mentre bamboleggiano con il suo sorriso mite. Chi lo vede per la prima volta spesso non se ne accontenta, si ferma e si volta a guardarlo. Lui se ne accorge e ho l'impressione che aranchi con una smorfia di sofferenza, ma forse non è così. Lui bada solo a non cadere e abituato a essere osservato. Sono io che non mi rassegno. Ho una smorfia di sofferenza ed è quello che ci unisce, a distanza. Altre volte ho provato a chiudere un attimo gli occhi e a riaprirli. Chi è quel ragazzo che cammino oscillando lungo il muro? Lo vedo per la prima volta. È un disabile. Pensa a quella che sarebbe stata la mia vita senza di lui. No, non ci riesco. Possiamo immaginare tante vite, ma non rinunciare alla nostra. Una volta, mentre lo guardavo come se lui fosse un altro e io un altro, mi ha salutato. Sorrideva e si è appoggiato contro il muro. È stato come se ci fossimo incontrati per sempre, per un attimo. Buona lettura.